Sindaco Alberto Bianchieri è venuto qui al presidio dopo l'invito del Movimento 5 Stelle, delle associazioni e dei cittadini. Sindaco, a che punto siamo? Oggi siamo qui con parte del Consiglio Comunale, di maggioranza opposizione, per renderci conto di quello che sta succedendo, ma soprattutto per ascoltare le problematiche di cittadini che in gran parte si conoscevano. Oggi si è deciso comunque di iniziare a fare anche un approfondimento un attimino su degli aspetti che sono nati a livello sanitario, anche su quello che si dicono, che si mangia, che si beve. Su questo adesso chiederò, vedo come, tramite l'ASL, o ai clienti, di fare delle analisi per capire che tutto sia in regola. E poi abbiamo già chiesto anche all'ASL di accelerare l'indagine sanitaria e epidemiologica su tutto questo discorso che stiamo aspettando da giorni per poi fare una seduta pubblica e capire bene quali sono i risultati.